La prima firma viene apposta per la città metropolitana di Bari dal sindaco metropolitano e presidente del Lanci Antonio De Caro. 500 milioni è l'impegno che si materializza oggi ma sapete tutti che il progetto riguarda 120 interventi quindi altri 95 rispetto a quelli che oggi abbiamo firmato e gli impegni economici, le disponibilità economiche per completare questo percorso ci sono, abbiamo varato venerdì scorso al Cipe ulteriori 800 milioni del miliardo e 6 che serve a completare l'operazione, gli altri 800 milioni fanno parte del fondo delle infrastrutture. Ho ringraziato il governo perché credo sia un intervento importante a favore delle città investendo nelle città che sono l'ossatura del paese, questo è un investimento di oltre 2 miliardi di euro proprio per il paese, un investimento importante dal punto di vista operativo perché il finanziamento permette di tirar fuori i progetti dai cassetti che altrimenti sarebbero rimasti lì, dal punto di vista strategico inseriamo singole azioni locali all'interno di una strategia nazionale sulle periferie. Allora io direi che oggi è stata una mattinata importante, molto significativa, avevamo come priorità quella delle periferie, Roma è riuscita a prendere una quota, quella quota di 18 milioni, saranno riqualificati alcune periferie, alcuni progetti insomma ci sono stati approvati e direi che quindi insomma è una mattinata che è andata molto bene, ci auguriamo che il rapporto con il governo continui ad essere sempre proficuo, a breve immagino un appuntamento per discutere dell'agenda per Roma. Beh sì, abbiamo firmato, siamo all'ottava città e con i 18 milioni del governo si aggiungono stanziamenti pubblici e privati per cui arriviamo a oltre 40 milioni di euro di investimento sulla città, quindi siamo contenti, sociale, scuole, verde, area giochi quindi delle risposte puntuali a chi vive zone più disagiate. Per noi è scampia, ma la cosa importante e unica in Italia è che il progetto porta tre firme, Comune di Napoli, Dipartimento d'Architettura, Università Federico II e il Comitato Vele, cioè gli abitanti hanno partecipato a tutto il progetto, i cui bandi sono partiti, abbattimento di tutte le vele tranne una, la prima si abbatte già quest'estate, una rimane e diventerà un luogo istituzionale, quindi non più periferia istituzionale, ma centralità istituzionale, poi c'è rigenerazione urbana, autoproduzione economica, parchi. Sì, intanto investimenti, investimenti pubblici che sono importanti in un paese che ne ha un bisogno disperato, investimenti nelle cosiddette periferie, che è un concetto da maneggiare con cautela, ma che individua delle aree urbane dove le situazioni di disagio sono particolarmente forti. Per quanto riguarda Genova, tanto per dare l'esempio concreto, l'area è quella di San Pierdarena, un'area post-industriale che con la scomparsa delle fabbriche ha visto proprio cambiare in larga misura, perdersi anche la sua identità. Il fenomeno delle baracche è stato subito un fenomeno che la gente andava a costruire come meglio poteva, però dopo tanto tempo, quando si costruivano qualche casa per i baraccati, non si abbattevano le baracche e il baraccato la vendeva, la dava al figlio, addirittura la vendeva. Noi abbiamo già cominciato ad abbattere invece le baracche, perché se no non c'è mai fine. Con questi soldi si faranno due, addirittura, quartieri, quello che è fondo sacca e fondo fucile, storici per veramente un'immensità di baracche. Insomma mi pare di mostri che c'è una volontà del governo, del Parlamento, di intervenire sulle periferie recuperando molti anni perduti. E quindi se i diversi livelli istituzionali si muovono insieme ad aziende come l'ANAS, si possono fare cose molto importanti, molto interessanti. Certo la street art da sola non riqualifica le periferie, ma è un segnale molto importante di inversione in tendenza. Assolutamente sì, è una sicurezza intrinseca, perché le persone vedono che è presente, che la città ci investe sopra e quindi lo tutelano. Poi ovviamente seguiranno anche telecamere, noi stiamo strutturando anche con tecnologie il raccordo anulare nelle nostre strade in generale. Ovviamente i comportamenti vanno anche controllati oltre che migliorati.